Siamo in compagnia di Antonio Fagoti al termine di una partita che non ha avuto storia tra Firenze e anzi la Fiorentina Basket e Pavia. Antonio, una terza vittoria convincente che dovrebbe ispirare il pubblico fiorentino a vedere questa squadra che non solo mette tecnica ma mette cuore. Sulla tua maglietta vediamo il claim We Are Family. Cosa significa We Are Family per la Fiorentina Basket e per il basket in generale a Firenze? Innanzitutto questa è la terza vittoria su tre partite. Ci siamo disegnati un percorso e questo percorso sta andando avanti per come ce lo siamo disegnati e questa è la cosa più importante. Sono tre vittorie, significa che stiamo lavorando bene, non gli darei più oltre questo significato ma la squadra, tutto lo staff ha veramente dimostrato tutto il proprio valore. Secondo me dopo partita, dopo partita continuerà a dimostrarlo perché ha fame di arrivare alla vittoria, è quasi cannibale per come scende in campo e ha un DNA che è dell'allenatore della società e questo ci fa molto piacere. Siamo una famiglia perché lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo, siamo una famiglia. We Are Family ha una doppia connotazione al nostro interno ovviamente ma vuol significare un avvicinamento della società e della squadra alla città e un concetto di unione fra gli sponsor, un network che sta crescendo. E anche se abbiamo due anni e qualche mese di anzianità, cominciamo a rappresentare veramente il movimento cestistico di Firenze. Il colore viola vi aiuta ma il colore viola a volte è un peso, in questo caso qui invece la squadra e l'allenatore stanno dimostrando, nonché la società stanno dimostrando che il colore viola è qualcosa che inizia ad appartenervi. Sì, questo è assolutamente qualcosa che ci ha connotato fin dall'inizio, fin dagli albori, da quando è partita questa esperienza. Il colore viola appartiene a Firenze e questa squadra appartiene a Firenze, quindi diciamo che quasi in un sillogismo il colore viola è il nostro colore e questo continuerà ad essere finché esisterà la Fiorentina Basket per molto tempo. Grazie. Grazie.